Salve a tutti ragazzi, sono ZoeVest, qua su Forsyne con una nuova custom, ma è più cominti dei cominti, perché qua con me... C'è Debe! No, non perché c'è Debe ragazzi, ma perché c'è Jimbo, proprio lui, ciaone Jimbo. Poi c'è anche Debe che ha voluto per forza esserci, ma... Questa cassa non l'ho trovata io! Come hai sentito la Debe, e tu che l'hai trovata tu? Bikini Button, che è la casa di SpongeBob, un cartone che guardavo io e mi piaceva tanto. Penso che solo tu guardavi SpongeBob nella vita. Solo Debe che conosce SpongeBob, un applauso a Debe che conosce SpongeBob. Io facevo le seghe, la facevano solo a busto al sizio. Bene, beh, comunque Imperator Z che vedete nella partita, non c'entra un cazzo. È gioinato Z a cazzo. È gioinata! Totalmente random. ZombieBest GT è già pronto, mentre tutti sono in sincrono. Cioè, e sto anche registrando e tutto, voi fate veramente schifo con... No, comunque sto ancora caricando, ragazzi. È per orfroccio, questo qua... No, sto ancora caricando. ...faccia vita di essere straniero, mi sapevo su, è calabrese, un bel quartiere dove non c'è internet e usa ancora il modem 64k. Objective design. Sì, 64k, proprio 64k. Esistono. Che gamemode mettiamo. Bello, belle le mani e le braccia. Oddio! Che cazzo è? Poi siamo i personaggi! Ma che cazzo è vero? Cosa è? Siamo i personaggi, ragazzi. Oh mio Dio. Cosa sta casinando? Cosa sta casinando? Che bellissimo! Oddio. Cazzo! Non riesco... Ma dove sono i zombie? Sì, ma io tipo vedo questa cosa bianca in mezzo. Chi sono io, ragazzi? Ma gli zombie sono dei sacchetti di plastica. La testa della coda è rincoglionita. Ma tipo, quando siamo tutti là a coltelare lo zombie, tipo, non si riesce a coltelarlo perché ci siete voi in mezzo, ci siete talmente enormi che lo fa coltelare. Ragazzi, io sono SpongeBob allora. Tu sei SpongeBob, io chi sono? Chi è questo stolto con le braccia bianche? Ma io cosa sono? Questo si chiama... Squidditch. Squidditch. Ma io chi lì è Squidditch, lui, giusto? Squidditch. Eh, io chi sono, ragazzi? Squidditch. Tu sei Squidditch. Ma chi è Squidditch? No, zombie best YouTube è Patrick. Ah, sono Patrick io. Ah, ok. Zombie best YouTube è Patrick. Tu guardavi chi? Ah, Jimbo, Jimbo, ho sbagliato a leggere. Jimbo è Quidditch. Che cartone è che guardavi, tu scusa? Ma no, perché guardavo dall'altra parte, ho sbagliato a leggere. Oh mio Dio, ma questa è la casetta di SpongeBob, questa. E quella di là è quella di Patrick. È troppo piccola. È troppo piccola la mappa. È troppo piccola la mappa. Squidditch. Oh, è un piano di merda, apre le porte, teniamolo. Ma che cazzo di mappa è? Cos'è sta roba? Guarda le tante come si può. SpongeBob fa di quei movimenti assurdi. Non vi preoccupate, ci penso io, ragazzi. Vi rianimo. Premi F2Coin ammo. Cos'è sta cosa? Ma perché tipo... No, praticamente... Ma gli zombie cosa sono? Le ammo si comprano con... Con le monete. Ma cosa sono questi zombie? S&G 10 coin. Io non so. Secondo me abbiamo finito le texture per fare i personaggi e sono rimasti stimenti. Ho dei palloncini. Quindi hanno fatto dei palloncini. Sono dei palloncini comprati al supermercato. Oppure, in teoria, potrebbero essere le meduse, perché in SpongeBob le meduse erano... Ah, sì, può essere, ma fatti molto a... Cioè, guarda che hanno tutt'altra forma. Anzi, se tu vieni a guardarli da sopra... Insomma, non vorrei... Ma secondo me rimangono dei sacchetti di plastica. Cioè, guarda! I sacchetti dell'umido. Your reward is nothing. Ah, devo fare un reward. Comunque, ragazzi, questo è il primo video in 1080p. Il primo video gameplay in 1080p della storia. E puntiamo in alto, ragazzi. Guardate i texture di questi personaggi. Con delle texture merdose. O forse, perché non so ancora come funzionerà. Oddio, 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 che figo. S15, è troppo figo. Ho sempre saputo che si chiamasse Squiddy, no? Squiddy. Sì, è vero, forse ha ragione. Squiddy, Squiddy. Forse era Squiddy. Squiddy, Squiddy. È da un po' che non guardo Sponge. La cassa è lì! Ragazzi, non si può raggiungere la cassa? Oddio, c'è pure la cassa. C'è un muro in visibile. Bisogna fare il giro allora. Bisogna fare il giro allora. Voglio trovare il clarenetto di Squiddy. O come dice Debbie, Squiddy. Squiddy. È il quidditch di Harry Potter. Ragazzi, adesso, dopo questo video, tutti a vedere SpongeBob in TV o in internet. Dove cazzo volete vedere. Non stiamo prendendo la mappa seriamente, ragazzi. Siamo al round 4, c'è bisogno di serietà. Io mi sto concentrando. Ho individuato la prossima porta, costa mille debia, più punti, direi Capribe. Non ho soldi, io. Ma che cazzo era questa qua? Mi è comparsa una moneta a caso. Hai preso un reward, secondo me. Il sacchetto mi sta attaccando. Ti soffoca. Ma come muoiono? Tipo, si ribaltano anche a testa in giù. Ho suonato qualcosa io. Ho sentito dei suoni inquietanti. Debe ha suonato il campanello, mi sa. No, sono morto. Oddio, c'è una scelta marina. Il mio è lento a muoversi, comunque. Il mio è lento a muoversi. No, non è vero. Anche il mio. Non è vero. SpongeBob è agile. Faceva palestra. Ah, è aperto Debe. Dov'è la cassa? Come guarda come tiene l'arma? Guarda come fa il risposto. Cos'è? Come cazzo? Tocca a me, andatevene tutti. Si levi, tocca a me. Tocca ai più forti. Tronzi. Io vorrei controllare che... Prendi quella soffecca, via. Lei stia zitto che tra un po' Debe scommetto che lei finisce con più volte a terra di me. Assolutamente no. A K74 Ugo, A K74 Ugo. Ugo? Il problema sono i bordi invisibili di questa mappa. Il drago no! Non vorrei dire, ma... Con il secchino, che magia. I bordi invisibili della mappa sono veramente un problema. Del tipo che non si riesce a capire poco. Ragazzi, ma li avete visti? Questo coso qua? Che cazzo è? Scappa, sono gli zombie! Ma non è vero! Sì! Ma cosa, hai ribaltato, hai la testa in giù. È morto, è sparito adesso. Cos'era? Lol, cosa sta accadendo? C'è troppo swag in the air. Qua non si capisce una... Swag in the air! Non si vedono gli zombie, ragazzi. Loll! Come cazzo si chiamava? Cracra? Quella K. Ah no! No, no, quello è Plankton! Questo è Plankton! È Plankton! Però c'è Crusty nel granchio, vero? No, Crusty è quello dei Simpsons. Cazzo, ma il granchio, come si chiamava il granchio? Mr. Krabby. Ah, ok, ok, Krabby. Krabby è il fanino. Eccordomè, finiti tutti gli obiettivi, bisogna prendere questo amo qua e si sale su in superficie, vedi? Sì, sì, probabile. Comunque io, ragazzi, non vedo gli zombie, non vorrei ma allarmarvi, ma non vedo gli zombie. Ma basta che ci pensa sto Emperor's arm. Emperor's arm. Emperor's arm. Ma forse è più corto di Trezzi. Basta Trezzi adesso, ma andiamo affancurlo e giochiamo con questo. Oh, qualcuno ha aperto la porta di qua. Dov'è il Jugger? Emperor cosa? Kill the bubbles, but near my house I will pay you. Dobbiamo killarli le Bubble Buddies. Eh, ci sono tutti gli obiettivi con i personaggi, avevo letto, su internet ci sono tutti gli obiettivi da fare con i personaggi. Eh, sborrata, adesso aiutiamo i personaggi. Ma i sacchetti hanno i suoni degli zombie. Oh, una moneta. Oddio, guarda i sacchetti che corrono da me. Già che non si vedono, no? Eh, appunto, non si vedono. Tu ti vedi arrivare un sacchetto quando ormai è davanti a te. Comunque è magico vedere Spongebobb col fuggile a pompa. Cioè, guarda, Mirko col fuggile a pompa. È meraviglioso vedere Patrick col fuggile a pompa. Anche sti personaggi sono una figata, ragazzi. Ho trovato una custom che è una figata. Comunque, aiutiamo tutti i personaggi, così ci darà qualcosa. Sì, io sto continuando a raccogliere monete, ragazzi. Bravo. Io ho 32 monete. Bisogna, vedi che Emperor è sveglio. Bisogna uccidere davanti lo squalo perché mangia... Ma, tipo, io mi sono accorto delle monete questo round, eh. Cioè, prima non l'avevo vista ne... Oh, è vero! Guarda qua che mangia, Jimbo. Qui mangia se li uccidi qua davanti. Cos'è? Sì, facciamolo mangiare. Guarda. Io Emperor facciamo mangiare lo squalo. È vero, è vero, è vero. Bobo? Vieni, mangia la tua plastica. Comunque... Mangia il tuo uvido. Mangia il tuo uvido. Si chiamano Bubble Buddies. Bubble Buddies. Buddies. Bubble. Bubble, bolle. Sono bolle. Ragazzi, sono bolle. È sveglato il mistero. Sono bolle. Sono bolle. Bubble. Buddies. Ah, quindi sono bolle perché siccome siamo pesci non possiamo prendere aria e quindi moriamo con le arie. Bravo, bravo. Non fa una piega, in effetti. Io e Jimbo stiamo qua a nutrire la saponetta. Noi nutriamo la spugnetta, scroto. Nutrisciti, stupida Pietra Pomica. Nutrisciti. Tutreggiti. Io guardo a destra, tu guardi a sinistra, Jimbo. No, scherzo, facciamo entrare. Avete visto che in lontananza in questa mappa si vede Torino? Oddio, vedo la cupola in fondo. Cos'è? La cosa, come si chiama? Se ti gira a destra vedi Colosseo. A sinistra vedi la cupola di Torino. Ho finito Lemmo. Ecco, morto. Arrivo Zombie Vest Yt. Non è vero, sono andato a terra pure io. Che due coglioni! Questa stupida sa che... Guarda allora per terra, quando spari si alza anche. Cazzo, guarda che qua ci sono tipo tre monete in fila, io non le lascerei. Quattro anzi, scherzo. Io prendo le monete col cazzo e io mi rianimo. Deve sverso che tu vado a terra. Aspetta, aspetta, arrivo il Jimbo. Porco... E c'è Zombie Vest Yt. Non è vero, mi ha solo il uso. Non l'hai salvato? Eh, eh, eh... Eh... Oddio, ma con quale mani rosa? Cioè, ma le hai viste le mie mani? Sì, ovvero. Non si è più un cazzo. Dov'è la cassa? Troviamo la cassa. Beh, Debbie ha tutte le mani gialle, lol. Io ho la febbre gialla in sto gioco. Ragazzi, sono senza emmo. Ho bisogno di o armi o cassa. Cioè, non si... Io vorrei il giag volentieri. Non si discute di questo. Niente. È un fucking labirinto. Ma che cazzo di come ti muovi, Zombie? Patrick. Lei stia zitto e pensi per sé. Ah! 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 Ah, c'ho bello zitto lei per comprare l'emmo. Che c'è il sacchetto. Oh, puoi comprare l'emmo. Ho capito. Con i coin. Con i coin ti compri l'emmo. Ecco perché non escono... Ma i bonus escono invece. Non ho ancora visto. Ah, sì, i bonus escono. Lol. Vado a comprare l'emmo. Ah no, ce li ho. Quanti sacchetti qua? Jimbo, Jimbo, falli venire qua. Aspetta, aspetta, è pieno di sacchetti. Oh mio Dio. È tipo da qualche parte dovrebbe esserci anche il giag marino da qualche parte qua in giro. Il giag marino. Bevi acqua. We are... Underwater. Fa tanto come l'elettorio. Underwater. Teee. Giag marino combatte la placca. No. È andato a terra. Ste texture del cazzo. Sei andato a terra. Underwater. Basta. Dai, ti ti... Oh, però sta facendo tutto Imperator. Che bravo Imperator. Oh, ehmg. Ma guarda che sono andato a terra per una toglia. Ma sti sacchetti. Non vedi quando ti tirano le mani i sacchetti. Monete, monete. È vero, non li vedi proprio. Monete. Che poi loro passano attraverso i muri. Non so se avete notato, ma loro passano attraverso i muri. Eh, sono bolle. Eh, sono sacchetti, è normale. Hanno i poteri della plastica. Sto fottendo tutti le monete. Cos'è il nuovo supereroe Marvel? L'uomo plastica. Io continuo a prendere monete. Il cinema della vita. Ok, allora, lo squalo l'abbiamo aiutato. Davvero? E cosa vi ha detto lo squalo aiutato? Grazie. Davvero? Mi ha ringraziato? Ma invece qua la pietra pomice cosa bisogna fare? Cercherei il jugge. Però tipo c'ha dato dei coin, credo, perché c'è scritto takes all the coin. Posto, tipo sta pre... C'è Crusty. No, venite, venite, c'è il jug. Sì, c'è Crusty. Come Crusty. Ho bagnato. Dov'è il jug? F2... Ah, ma va. C'è anche la cassa, sì. Con 500 point ti danno una moneta. Ah. Oddio, c'è, c'è Crump. E con 500 punteggi ti danno una moneta. Allora, io uso questo qua. Io aiuto questo qua. 500 punteggi. Jimbo, stai qua con me, Jimbo. Jimbo. Jimbo, io devo fare cassa. Mi faccia fare una cassa, Jimbo. Ho visto lo Zeus. Ho visto lo Zeus. Lo prendo io adesso, tranquillo. Ti azzardare. Dai, stia tranquillo. Ah, no, no, no. A K47. Ho visto anche la Mark II. Sì, anch'io. Raga. Io ho visto la Winter invece. No, fanno avvicinare! Ma le prende le anime. Guarda le scoregge verdi che volano. Scoregge da sacchetti di platini. No, c'è Imperator tutta terra. Vado io, ragazzi. Vado io, tranquillo. Vado io. Attendomi a quanti. Ragazzi, potrei aver bisogno di un supporto. Arrivo io. Arriva Faze Jimbo. Faze Jimbo. Con il suo cecchino. Ah, regà. Guarda Faze Jimbo, mio Dio. Copri Faze Jimbo, copri. Sto costruendo le mani. Fai. Guarda che roba. Guarda che roba. Copri che lo tira su. W, oh my god. Devo caricare, devo caricare. A posto, forza, capiamo il Jugbo. Non so come avvicinare. Ma dai, non è possibile. Avevi il Jug? Avevi il Jug? Venite a salvare Faze. No, non avevo il Jug. Ah, ok, ottimo. No, perché sennò vuol dire che non funzionava il Jug. Perché con i sacchetti, con il Jug, è abbastanza difficile farsi buttarsi giù. Farsi buttarsi giù. Vai, Debe, yeah. Zombie Vest YouTube arrivano tutti i posti. Dove è Debe, yeah. Zombie Vest YouTube. Copri, mi, copri, mi, copri. Ok, vai, 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 vai. Tu lo tranquillo. Ci pensa a John Vest. Devi facci venire a terra con qualche tuo stratagemma da game.